Calano i numeri dei contagi nei comuni vesuviani. Nel comune di Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, si sono registrate 8 nuove guarigioni, certificati invece due casi di positività. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati con 82 attualmente positivi, di cui 10 ospedalizzati. Anche nel comune di Bosco Reale si è registrato un miglioramento dei dati precisamente nel periodo del 15 al 19 settembre. Gli attuali positivi sono diminuiti a 47, precedentemente erano 77, mentre non si sono registrati nuovi decessi. In tale periodo sono stati effettuati complessivamente 222 tamponi, di cui 215 negativi e 7 positivi con un indice tamponi effettuati positivi del 3,15%. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono somministrate complessivamente 16.550 prime dosi di vaccino, 61% della popolazione, mentre 13.463, 49%, hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose. A Torre annunziata sono 4 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 48 ore, a fronte di 144 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta a 2,77%. Al contempo si registrano 8 guarigioni, sono 48 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 48.543, i cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 21.920, il 60%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.623, il 73%.